Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo qui con la presentazione di un'altra promo, infatti finiti i toti, il venerdì diventa un'altra volta sinonimo di carte nuove e questa volta tocca ai future stars. Quindi le giovani promesse, i talenti che un domani aspirano a diventare i campioni, quindi carte che sono estremamente bustate. Io ci tengo un attimino a frenarvi, perché insomma se ricordiamo gli scorsi anni, a memoria future stars uguale carte con statistiche allucinanti che non si traducono necessariamente in realtà. Quindi ricordo un main di future stars o FIFA 19 essere utilizzato anche a livello competitivo, ma occhio a valutarli per bene, perché numericamente sembrano tutti dei mostri, poi magari li si va a provare e non sono granché. Tuttavia ci sono un sacco di cartine interessanti, quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere, visto che questo sarà come al solito un video analisi abbastanza corposo, passiamo subito al primo giocatore che ci attende. Ed è Edoardo Camavinga, signori, questo è spaventoso. Devono sempre, come vi ho detto, esagerare, però parliamo di un giocatore che è 1,82m, alto alto, quindi work rate perfetto, piede sinistro. Il problema potrebbe essere questo 3-3 che magari in mezzo al campo un po' si fa sentire in fase di impostazione e soprattutto non vi permette magari di fare neanche una minima skill, però guardate che statistiche c'ha. 87 di accelerazione con 85 di velocità scatto, 95 di potenza tiro con anche una discreta finalizzazione, passaggi che non hanno un senso, sembra pirlo dei vecchi tempi, agilità on point, così come equilibrio, attività, controllo palla, eccetera, quindi vuol dire che con l'L2 questo è anche molto reattivo, il che si trova anche ad associare a un'ottima aggressività e un 87 di forza che non guastano mai. Questo, a mio onestissimo modo di vedere, è una delle carte più interessanti, ma aspetto di provarla, aspetto di vedere effettivamente in game che cosa sarà di questo giocatore, ma è il più interessante, visto che dà anche Link a Neymar, Link a Mbappé, eccetera, eccetera. Potrebbe essere una sorta di Renato Sanchez, non so attualmente il prezzo, visto che sono appena uscite, ma questo qua è veramente tanta, tanta, tanta roba. Gullit Gang, tutte stazze addirittura ben oltre l'80, quindi veramente un giocatore, questo spaventoso, questo qua, sono davvero curioso di vederlo all'opera. Secondo giocatore che andiamo ad analizzare è il buon Steven Berguin, un esterno sinistro, piede destro, 4-4, alto normale, 1,78 m, Anche qua abbiamo un bel aumento statistico, velocità e accelerazione super soniche, potenza tiro e finalizzazione che sono davvero buone, ottimo il passaggio corto e lungo, magari pecca un pochino. Agilità, equilibrio, reattività, tanta roba, ma questo qua è il classico giocatore dal body type, stocchi, ovvero un po' cicciottello, tarchiato, paffuto, che andandolo anche ad unire al 94 di forza sicuramente non lo rende il più agile del mondo, però va detto che tutte le statistiche le ha al posto giusto, va visto effettivamente il prezzo, esterni a sinistra in Premier League ce ne sono, c'è il buon Rashford, c'è il buon Manet, eccetera, eccetera, secondo me in termini di rapporto qualità-prezzo andrei a preferire comunque un Manet. Quindi vi ripeto, al momento non so che prezzo farà questo Berguin, ma credo che andrà ben oltre il Manet base, quindi preferisco mille volte lui perché non ha neanche il 5 vite debole, quindi manca dirgli metterlo davanti come seconda punta, visto che gli mancano anche le 5 skill, quindi questo qua sicuramente una bella carta, l'esterno lo può fare, però ci sono alternative secondo me a prezzo inferiore che possono tranquillamente dire la loro... Vabbè, Lunin, portiere del Real, abbiamo Courtois che, insomma, sicuramente non si fa sostituire dal buon Andri Lunin, poco da commentare. Questa è un'altra carta clamorosa, ragazzi, il buon Serginio Dest, 1,75m, alto, normale, che non è un grossissimo problema, 4-4, questo qua è praticamente il nuovo Semedo. Mi aspetto, ve lo dico, non so se è effettivamente successo, ma mi aspetto un rialzo di Messi Toti e delle varie versioni di esterno di Messi con questo terzino, perché gli dà la tripla, la doppia, scusatemi, quindi questo qua va a linkare perfettamente Messi senza problemi, un po' come veniva l'anno scorso col buon Nelson, quindi occhio all'accoppiata Messi più Dest che magari potrebbe ritornare prepotentemente anche in competitivo, velocissimo, passaggi veramente ottimi, super agile, super reattivo, anche una buona freddezza, tanta roba all'86 di aggressività, buona forza e le statistiche difensive, in particolare la lettura con 86, sono veramente fatte bene. Un bel stile intesa ancora per il nostro amico Serginio, ecco questo qua, veramente fate la differenza. Miglior terzino destro in Premier League a mani bassissime, probabilmente in Liga, scusatemi, è anche uno dei migliori terzini destri all'interno di tutto il gioco, quindi tanta roba, il buon Serginio Dest. Altra carta clamorosamente bustata è il buon Giovanni Reina, 1,85m, 4,4, normale, normale, statistiche di velocità esagerate, 84 reposizionamento d'attacco, 90 addirittura di finalizzazione con 94 potenza tiro, passaggio corto spettacolare, il lungo ottimo, ottima anche la freddezza, agilità eccetera eccetera, però questo è 1,85m per 85 di forza, io credo che in game vada un po' a essere una sorta di aversi in termini di fisicità, per cui non vi aspettate un folletto che sguscia destra e sinistra, io questo qua lo proverei sicuramente da esterno, ma potrebbe anche dire la sua da C.O.C. essendo 1,85m, sicuramente né punta né seconda punta il buon Giovanni. Quindi, continuando la carrellata delle carte clamorose, arriviamo a buon Kuluseski, tifosi juventini impazziti, 1,86m, alto normale, sinistro 4,4, velocità anche per lui tanta roba, 86 di finalizzazione con 84 di potenza tiro, passaggi al top, sia il corto che il lungo, agilità qui che già di per sé non è proprio, insomma, altisonante, unito anche all'84 di forza, lo appesantiscono sicuramente, ma questo qua risulta uno dei migliori esterni in Serie A. E a meno che non abbiate il buon Lozano, eccetera, eccetera, non scambiabili, io andrei a preferire lui, perché credo che costerà più o meno uguale, ma vi dà anche intesa maggiore al buon Cristiano Ronaldo, quindi anche magari per le hybrid, eccetera, piuttosto che Lozano, preferirei il buon Kuluseski. Parliamo anche poi di un giocatore di 1,86m, quindi bello ampio nei movimenti, che qualora dovesse rendere per quella che è la sua velocità, sicuramente risulta essere la freccia destra più appetibile per quanto riguarda il nostro campionato, visto che ha anche 4 di piede debole, a differenza di Lozano che ne ha 3. Quindi tanta roba anche il buon Kuluseski. Sempre rimanendo in Serie A abbiamo il buon Diogo Dalot, diciamo il chip Teo Hernandez, 1,83m, alto, normale, 3-3 per quanto riguarda mosse, abilità e piede debole, velocità anche per lui al top, una buona potenza tiro, ovviamente scarsa finalizzazione, passaggio corto perfetto, il lungo molto deficitario, quindi magari con un meta in cui anche i terzini lanciano spesso e volentieri potrebbe essere un po' deficitario. Parametri relativi agilità, equilibrio, eccetera, eccetera, sono fatti molto molto bene, lettura difensiva 87 che è quella che gli permette di fare diagonali, forza 82, aggressività 88 per una carta molto molto interessante, da vedere il prezzo, secondo me miglior terzino in Serie A, con però la prospettiva di spostare Teo Hernandez come difensore centrale, altrimenti un gradino all'indietro il buon Teo, però bella carta anche questa qui. Dominic Shobociolai, questa è un'altra carta molto molto interessante, diciamo il Kuluseski della Bundes, perché stessa cosa, 1,86m, ha un work rate un po' ambivo, normale e basso, però è 4-4, piede destro, velocissimo, buona potenza tiro e finalizzazione, tantissima roba ai passaggi, ovviamente anche in questo caso l'agilità non risulta per quello che è, visto che un giocatore con un body type di un certo tipo è anche 84 di forza, però anche freddezza, dribbling, controllo palla, eccetera, eccetera, sono tutti parametri super per il buon Shobociolai, che per me fa benissimo il ruolo di esterno, data anche l'ampiezza dei movimenti, l'unico problema ovviamente è andarlo magari a linkare con giocatori di Bundesliga, però, insomma, molto 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 valido, mi immagino magari un Davis terzino più Shobociolai, più qualcosa in mezzo al campo come un Icon, e bene o male ce la si riesce a giocare con un 4-5-1 per ibridarlo. Per quanto riguarda poi le carte di Premier League, che ovviamente non possono mancare in questa squadra, che ogni anno arriviamo alla prima che è il buon Harvey Barnes, CoC 1,80m, alto normale, 3 di mosse abilità e 4 i piedi debole. Sapete quanto per me quest'anno le mosse abilità sono importanti? Avere 3 già mi fa storcere un po' il naso. Per quanto possa essere una carta super boostata, come lo sono tutte, e lo ripeterò alla noia, 3 di mosse abilità lo limitano molto, non può farvi l'esterno, passaggio lungo deficitario per fare il CoC, sicuramente agile, eccetera, eccetera, però sicuramente costerà anche abbastanza, quindi eviterei questo qui di andarlo potenzialmente ad acquistare. Cosa che invece non farei con questo RIS James, che adesso inizieranno le domande, meglio lui o Cancelo, meglio lui o Giovannino, meglio lui o Beyerin, meglio lui o Semedo, eccetera, eccetera, questo è un signor terzino. L'unico problema magari può essere il 3-3, ma è un metro e 82 alto normale, con una velocità supersonica, passaggio corto perfetto e lungo un po' meno, l'aggressività poteva essere un qualcosina di meglio, ma abbiamo addirittura un 88 di forza, associato anche a buone stats di agilità, dribbling, eccetera. Quindi al momento non mi sento di dirvi se sia meglio effettivamente di Cancelo o di Semedo, quello che vi posso dire è che sicuramente è uno dei terzini più interessanti per quanto riguarda la Premier League, quindi occhio, anche perché Link ha anche Walker, insomma ci dà degli spunti interessanti anche per le nostre hybrid, stile intesa anche per lui un bel ancora. Arriviamo poi a Sandro Tonali, che come al solito è una carta gratuita, ovvero una carta che sblocchiamo tramite obiettivi. Tonali Moments, un metro e 81, alto normale, tre di mossi abilità, che anche qua un po' mi fa storcere il naso, ma comunque fa il cdc o il cc, quindi ci possiamo stare, quattro di piede debole, parametri di velocità, tanta roba, passaggi perfetti, agilità anche non c'è male, forza e aggressività un po', intellettura difensiva, contrasto in piedi, scivolata, quindi parametri difensivi ottimi per quella che è una carta Gullit Gang, per cui tutte le statistiche sopra l'80, immaginatevi una mediana Tonali che sì, praticamente Tonali gratuito, che sì lo andate a pagare, però voglio dire, vi fate veramente una bella mediana, secondo me Tonali che sì, in Serie A al momento risulta essere sicuramente una delle coppie migliori, quindi tanta roba il buon Sandrino, e vi ripeto, gratuito, quindi basta farvi un po' di obiettivelli, passa il tempo, ma ve lo portate a casa, e arrivederci, lo provate, se fa schifo bene, se invece è top, bene al quadrato. Arriviamo all'ultima carta, se non erro, esattamente, no, abbiamo il buon Isaac, che vabbè, insomma, un metro e novantadue di giocatore, sì, quattro di skill e cinque di piede debole, ma volete vedere quanto ha di forza? Ah, ma aspettavo in realtà anche di più, 83 di forza, 87 di agilità, però questo qua mi puzza onestamente un po' di tronco, voglio dire, eviterei di andarlo a mettere, oltre che pure, insomma, svedese, stavo per fare un gaff sulla nazionalità, incredibile, questo qui, insomma, non ce lo vedo, non ce lo vedo, è un po' libra dei poveri, con tutte le statistiche che c'ha, mi sa che ci tira una mezza sola. Cosa che invece potrebbe essere interessante è questo Bruno Guimaraes, che è una SBC in doppia versione, come potete vedere, quello che cambia è che questo qui è estremamente difensivo, rispetto a questo che magari ha delle statistiche di tiro migliori, quindi andrei tutta la vita eventualmente a sbloccare questo, ed è quello che ci andiamo ad analizzare, un metro e 82, normale alto con 3-3, carta sicuramente valida, diciamo che se non avete Marchigno, sia questo Bruno, se ha prezzi contenuti, lo andrei a sbloccare, perché vi dà la possibilità di poter sbloccare intese su un Nemaro, su un Bappé, eccetera, è una carta che nel club può sempre tornare, oltre che è molto valida, tornare utile, perché ha degli ottimi passaggi, velocità discreta, agilità insomma, così e così con l'L2 comunque si muove abbastanza bene, forza on point, aggressività tanta roba, statistiche difensive perfette, quindi se non avete, ripeto, Marchignos, questo qua con un bell'ombra può fare tranquillamente la sua figura in mezzo al campo, quindi pensateci bene, non fatevi sfuggire un altro sbc di questo tipo, anche se non vi serve, ripeto, se ve lo portate a casa a poco, fatelo per il futuro. Quindi raga, per quanto riguarda questo video, è tutto, questo è solo il primo team, quindi settimana prossima vedremo il secondo team di Future Star, dove mi aspetto altre carte clamorose, vi ricordo di lasciare un like, un commento, fatemi sapere quale carta siete più ansiosi di testare e provare a prendere per le vostre squadre, domani in tutto ciò ci sono le qualifiche, se Dio vuole, dovrei anche ritornare sulla piattaforma viola, finito il mio esilio, e è nulla ragazzi, appunto trovate tutte le info in descrizioni per le live giornaliere, a me non resta altro che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Ciao raga!